Salgono a 21 i casi di meningite in Toscana dall'inizio dell'anno e due di questi hanno colpito cittadini residenti nella nostra zona. Una donna di 69 anni di Pontassieve è stata ricoverata all'ospedale fiorentino di Ponti Anniccheri nella notte di mercoledì con febbre alta dal giorno precedente e chiari segni di sepsi. La donna ricoverata nel reparto di malattie infettive è poi risultata positiva all'esame per la tipizzazione del meningococco di tipo C e sono in corso gli accertamenti per appurarne il tipo. Il comunicato stampa diramato dalla ASL 10 non entra nel dettaglio delle condizioni della donna quindi al momento non è possibile stabilire quanto siano gravi le sue condizioni. Il meningococco di tipo C dall'inizio del 2015 ha già colpito 16 persone in Toscana causando tra questi 4 morti, 3 a Empoli e una a Montevarchi, la giovane Anna Limongello di 31 anni. Gli altri 4 casi di meningite registrati sono stati 2 di meningite B, 1 di W e 1 non tipizzato. I servizi di prevenzione e igiene pubblica hanno già contattato le persone che sono state in contatto con la donna di Pontassieve ricoverata a Pontannicari, all'incirca una trentina di cui 13 sanitari e a cui è già stata effettuata la necessaria profilassi antibiotica. Intanto i centralini dell'azienda sanitaria fiorentina sono letteralmente presi d'assalto da migliaia di cittadini che chiedono di essere sottoposti alla profilassi. Ma data l'enorme richiesta i tempi di somministrazione del vaccino sono lunghissimi. Gli appuntamenti vengono dati per il mese di settembre.